Sono 46.631 positive test covid individuati nelle ultime 24 ore in Italia su 530.858 tamponi effettuati, con un tasso di positività all'8,8%. Secondo i dati del Ministero della Salute sono 233 le vittime in un giorno. I ricoverati con sintomi nei riparti ordinari sono 10.456. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 708.